ci tornare diamo un po po di beach volley bentornati amici e la batteria scarica farò qualche po di video vediamo se questa battuta fa ridere o no il muro che è andato a segno ragazzi quante roba credo fare una foto qua non è che viene bene ma qui dove mi trovo se sa dove mi trovo provate è un buono dopo trovo un lavapiedi provano i piedi di mettere sulle scarpe che bellezza qua seria qui non si scherzava lì ragazzuoli venite qua anche ragazzuole non so dove mi trovo però se voi riuscite a scoprirlo e venite qua avete fatto tombola un saluto a giaguari guarda che bravi che sono vedi il giro per uno fammi una struttura a me dentro saluto il buonanotte i piccoli nel ballo anche sulle belle manie oggi la peppa che effetto acustico moderno qui c'è della lotta qui c'è della lotta ragazzi qui c'è della lotta magari che le ragazze tutte le ragazze che mi seguono sono interessate ai ragazzi io non me ne intendo di ragazzi non so se sono belli o brutti quello che prendo prendo è brasiliano è brasiliano lui no non sono gay magari qualche ragazza che vede il mio video allora ogni tanto gli picchiola qualche bel ragazzo dai voi brasiliano sicuro che brasiliano guardate lì ciao ragazzi forza forza il miracolo italiano 2.0 youtube su youtube il miracolo italiano centrale e qua mi sembra categoria veterani vecchie glorie come me è sono giganti questo però direi che sono bravi se mi metto lì io a giocare faccio solo figure a parte che quando giocavo io a scuola metterò poi sta grande schiappa eh anzi mi difendevo se ho respirato che sentivo le battute venivano qui si tratta di schiacciata ed è buona mi dispiace buona qui si tratta di tempo andiamo da vedere quelli da che fanno un po di 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 scuola nautry scuola di remaggio su tavola c'è adesso faccio un po di foto perché anche poca memoria eh a tutte e cinque quasi cioè in quella zona in pochi metri quadrati sono cinque stritti così e li mandano in giro da soli e se vedi due stritti così pagliano di vecchie di reggio cambia residenza con un attimo capitano adesso poi un batterio e spazio Guarda che roba, guarda che bello giro si è tirato, bravo, bravo Guardate che stanno passati i super plan che devono passare a noi, i super plan Grazie, che bello, la notte non gli vedremo un giro, eh L'avete sentita? Vedete ogni tanto Reggio è presente Per vedere se date un input ogni tanto di vita, dobbiamo mettere alla prova Via! Via! Facciamo un salutone al nostro Capitano America Il Miracolo Italiano Il Miracolo Italiano 2.0 Un saluto al 2.0 che è sempre in Sivanoli Il catola R non mangiano, eh Amicissimi, approfittatemi che c'è due per uno una gran banda Di quando non finisce la birra e lo sprint, guarda lì la fila e la coda Di cambio in piani proprio Magliano c'è la fila Un saluto al 3.0 che è un passaggio Il fatto che inizia la fila Che il provino insieme Assim, del tratto di verifique Un saluto al BNB 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 questo diretto di là sono a favore del sole ma perché il sole me l'hanno messo di lì porca Eva non metterlo dall'altra parte non fanno tramontare a est invece che a ovest stasera venerdì 9 giugno 2023 qua c'è lo spettacolo ragazzi le donne più belle dell'universo anzi anche le ragazze sono qua tutti qua stasera però quando avrò fatto il video sarà stasera sarà d'altro ieri sera mi sa che squadre qua qui c'è un pandemonio esiste un paradiso come la Romagna vediamo il ciccio Jerry questo video da farò almeno 7-8 visualizzazioni le farò è un video di quelli super belli ciao 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 niente adesso andiamo giretto video l'abbiamo fatto ragazzi ragazzi eh ciao ciao Info, info, kickbox Ma là, eccolo, vuoi fare un indiretto, vai Il capitano, guardalo lì dove è il capitano Adesso, mi sono anche stupito di fare questi video E allora, che c'è anche il mio braccio Che è lì, ormai ha preso la forma a tenere sul telefonino E per fortuna che è leggero, ragazzi Pensate quando ero in giro con la miraglia della Canon Mi stanno facendo riunione tattica, tecnico, tattica Vediamo il video da dove, non lo so